L'amministratore delegato di Pane e Salame, quello che ha sognato queste... ...e le lavorazioni che stanno per essere concluse a due giorni dall'apertura. Enrico, pronto per YouTube? Questa è la situazione a poche ore dall'apertura. Si sta lavorando giorno e notte. Sto facendo la conta della potenza che abbiamo. Qui si lavora giorno e notte per riuscire a completare i lavori per lunedì. No, ma io non sono puttosevuto. Non sono puttosevuto. Questa è una cosa carina. Grazie. Grazie.